stiamo facendo il briefing le frequenze le abbiamo tutte definite avete tutti un adesivo con un colore mentre la gente è in volo guardate il colore libero lì per terra prenotatevi per il volo successivo e come fa? si toglie il cono? no metti il drone vicino e via non sai che domani devi portare almeno 10 di questi è troppo buono ne ho due ne ho altre due ma lo compri o lo fai tu? l'ho comprato ve l'ho fatto d'inverno prendo la salsiccia normale quella romagnola bologna, ferrara, fanno tutto uguale poi la lascio appesa come un salame ma nel giro di un mese nel giro di un mese viene questo è un ristoro del campo aeromodulistico di Fornì come potete vedere sono molto 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 organizzati grazie 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 dai sorridi guardati qua fai i chips ronaldo ronaldo è il primo grazie 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 non c'è lo champagne video aspetta dai 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 no 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 grande non la vuoi la bevo io vai